Ecco, ci siamo con Francesco Andreoli che è il presidente di Liguria Together, giusto? Giusto. Allora, che cos'è Liguria Together e quali sono le finalità? Liguria Together è un'associazione, un consorzio che raggruppa diverse rappresentanze territoriali, sia comuni che attività private, va dal comune di Varazze alle Grand Hotel di Portovenere e passando per le valli dell'Aveto, quindi territorialmente è il consorzio più grande di tutta la Liguria. Benissimo, è nato da poco? È nato da qualche anno, prima si chiamava Sestri Levant Hotel & Restaurant, eravamo in 5 quando l'abbiamo creato e adesso abbiamo dovuto cambiare il nome proprio perché è diventato il più grande di tutta la regione. Ecco, il futuro che cosa prospetta Liguria Together? Il futuro si prospetta molto erosio, nel senso che abbiamo una gestione particolarmente attenta e di conseguenza siamo pronti per investire per qualsiasi forma di promozione del territorio che possa essere utile per i nostri associati. Benissimo, la sede dove si trova? A Sestri Levanti. A Sestri Levanti, benissimo. Allora ringraziamo Francesco Andreoli e gli auguriamo buon lavoro. Grazie, anche a voi. Grazie.